Questa Europa ha bisogno di un cambiamento strategico per quanto riguarda le politiche non solo economiche ma anche fiscali e occupazionali e quindi salariali. Oggi la dinamica che sta succedendo in Embraco Whirlpool è il risultato di una politica fiscale non armonizzata a livello europeo che crea dumping, che crea il processo di delocalizzazione e che crea un danno economico al nostro Paese enorme. Quindi bisogna armonizzare la fiscalità perché laddove in Italia abbiamo una tassazione che ha cifre esorbitanti, altri Paesi ce l'hanno tre volte inferiore alla nostra. Armonizzare i salari con una convergenza verso l'alto dei diritti e delle tutele salariali e occupazionali. Altrimenti avremmo sì sicuramente manifestato la nostra solidarietà, la nostra vicinanza ai lavoratori Embraco ma non avremmo proposto soluzioni veramente concrete che aiutino i lavoratori, che aiutino le aziende. Oggi purtroppo l'Europa è vittima di una frammentazione del mercato, di concorrenza ai limiti della slealtà e di politiche economiche che non garantiscono né il benessere delle aziende né tantomeno quelli dei cittadini. Sicuramente hanno avuto il grande merito di interrogare in maniera assolutamente forte gli eurodeputati in un tema italiano importante. Sicuramente l'impegno è quello di contribuire a una risoluzione che sia forte e abbia un messaggio importante dove almeno il nome dell'azienda Embraco Whirlpool sia presente ma soprattutto deve risollevare un tema fondamentale che è quello di garantire politiche economiche dell'Europa a garanzia di tutti gli Stati membri. Oggi non ci sono e il caso Embraco è la dimostrazione di come la disparità di condizioni all'interno dell'Unione Europea genera veramente problemi non solo economici ma anche sociali di proporzioni enormi destinati ad aumentare. La competitività che diventa molto spesso sleale all'interno dell'Unione Europea si scontra anche con una competitività a livello extraeuropeo fortissimo quindi è come se vivessimo in Italia in una doppia morsa. È ovvio che esistono priorità economiche da portare avanti che non sono semplicemente regole, patto di stabilità, vincoli di bilancio, pareggio ma sono regole che armonizzino anche le economie e permettano una competitività leale all'interno dell'Unione Europea. Oggi non c'è. Oggi c'è un dumping interno all'Europa che genera situazioni come Embraco abbiamo visto Alma Viva e purtroppo a fronte di un problema che si genera all'interno dell'Unione Europea la risposta europea è quella del FEG, del Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione una misera elemosina della quale sicuramente questi operai della Whirlpool e Embraco non hanno bisogno loro oggi hanno fatto una richiesta a lavoro, occupazione come si garantisce la crescita, l'occupazione e il lavoro con investimenti espansivi con investimenti in settore ad alto ritorno la tecnologia, il grande valore del nostro Paese nel sistema produttivo deve essere spinta deve essere alimentata con investimenti importanti che veramente generino occupazione a livello europeo, armonizzazione fiscale, armonizzazione salariale, competitività che sia veramente basata su regole comuni e diritti per tutti perché se no applichiamo le regole per alcuni le interpretiamo per altri questa è la distorsione di questa Unione Europea che ovviamente non si chiama più comunità europea ma si chiama Unione Europea